Allora, cose belle e cose brutte. Partiamo dalle cose belle. Le cose belle sono che c'è stata una settimana intensa di lavoro, è anche prevedibile perché tanti giocatori sanno che sono messi in discussione e quindi vogliono fare il loro meglio, però c'era anche molta voglia di imparare, di sentire e di collaborare tutti assieme. Quindi abbiamo spinto soprattutto nei primi tre giorni anche un molto forte a livello fisico e ci siamo così un po' conosciuti, devo dire che è stato 4-5 allenamenti molto profitti da questo punto di vista. Credo che ci siamo riti su quello che è il nostro obiettivo comune, cioè quello di migliorare il lavoro difensivo e le collaborazioni in attacco di squadra. inizia di apparire una squadra che sia veramente più unita sia in difesa che in attacco. Da parte di tutti. Le cose brutte sono che, vabbè, Jerome Jordan ha fatto un allenamento in mezzo dopo tanti giorni di pausa, questo perché è più o meno al 50% in questo momento, è veramente una cosa brutta che invece tutta la settimana Mark Walsh ha fatto la prima volta del regamento, è difficilmente giocare domanda. Questo è un infortunio molto banale da solo, peraltro. Questo piede è molto dolente. però fatica quasi camminare sapete tutti noi e me che quando il tuo migliore giocatore quando il migliore giocatore non gioca dal migliore giocatore crea una scomprensa a tutti quanti ci aspettano che giochi da Matt Walsh invece poi Matt Walsh non è quindi credo che dovremmo essere tutti pronti a sopperire la sua assenza facendo ancora qualche cosa di più quindi vengono richieste di straordinari anche perché giochiamo con una squadra che è inutile presentare perché sono tutti giocatori di altissima esperienza sono i campioni d'Italia sono una squadra che ha 10 giocatori e 10 e soprattutto è una squadra estremamente atletica e quindi adesso dobbiamo essere un po' furbetti a posare anche le energie e le forze e non magari a correre come dei pazzi tanto per, ma a correre solo se abbiamo un contropiede altrimenti dobbiamo essere un po' più bravi a giocare anche a metà campo perché loro possono sicuramente sostenere ritmi altissimi quindi abbiamo 10 giocatori 10 dove siamo un po' incerottati e dobbiamo fare un po' così desaurizzare le nostre energie e dobbiamo fare un po' così